Mi dicono che hai fatto grandi cose in America. Abbiamo fatto i film che dovevamo fare. Eh certo, tu sei una professionista vera. A trovarne con Mattei. Riccardo mi dice che ha una proposta da farci. Sì, e Riccardo mi ha detto che sta davendo dei problemi a girare in Italia. Mentalità ristretta, falsi moralismi. Allora io gli ho detto, Riccardo, se posso essere utile, io sono a disposizione. Per Moana o qualsiasi cosa. Ti proponi? Tutti i vostri film li finanzio io. E decido io dove girate. Così voi state tranquilli. Beh certo, voglio dire, la professionalità ce la dovete mettere voi. Io poi non ne capisco. O montaggi, riprese, queste cose qua. Ho preparato un contrattino. Qua c'è scritto tutto. Ci sono quattro righe, ci devi solo mettere la firma. Ovviamente la cifra la decidi tu. Tu l'hai letto? Riccardo. E glielo vuoi dire l'accordo che abbiamo fatto? Pasquale vorrebbe un'esclusiva su tutti i tuoi film. Tutti i film? Ehi ma solo quelli. Il resto fate come vi pare. Tu sei diventata nativa internazionale. Io su di te voglio fare un grande investimento. Tu leggi con calma. Con calma, leggi, rifletti. E domani mi dici sì. O no, si intende. Tipo. Tipo.